Allora praticamente facciamo l'esempio dell'ordine della frutta e la verdura come dicevo prima, quindi io il sabato si apre l'ordine e diciamo così vado sull'applicazione, sul mio telefono, sul computer e faccio l'elenco delle cose di cui ho bisogno. Il sabato mattina arriva il camion al punto logistico avanzaghello dove presenti vengono scaricati i bancali nostri e quello di altri gas, poi ci sono quattro soci a che a turno, tutti i volontari, che coordinate dal responsabile, siamo così, scaricano i bancali, controllano, li suddividono per ogni gruppo di acquisto e diciamo così li portano nella nostra saletta che abbiamo a disposizione. Poi con dei computer, due bilance, si preparano proprio fisicamente le cassette, ecco cosa molto importante è anche il discorso che le cassette noi le riutilizziamo, cioè praticamente riduciamo proprio al minimo i rifiuti, le spese. Ottimo, su questo ci trovi sempre d'accordo. Esatto, cioè sempre tornando al discorso del supermercato, proprio vedevo l'altro giorno c'erano i broccoli, ogni broccoli era confezionato a volte in un sacchettino di plastica, nel nostro caso non succede insomma, quindi poi... Sì perché arriva fresco. Arriva fresco, anzi sarebbe il modo migliore per farlo andare a male avvolgere in un sacchetto di plastica. Da noi invece arrivano nelle cassette e poi vengono, diciamo così, sul computer, nel nostro programma, viene preparata la singola cassetta di ogni famiglia. Quindi io magari avrò ordinato 5 kg di arance, 3 kg di mele, quindi si prendono 5 kg di arance, 3 kg di mele, eccetera, eccetera. Si pesano e poi si vengono chiamati dalla persona che ha trovato la cassetta e si va fisicamente a ritirare la cassetta con i prodotti freschi. Per cui diciamo che il cliente poi, cioè il cliente, il socio viene a ritirare direttamente il prodotto. Viene tirare direttamente lì e si riporta indietro le cassette del sabato precedente. Ah ok, perfetto. Solidale con noi ma anche verso i produttori, ecco. E l'ambiente tutto. E l'ambiente sicuramente. Su questo ci trovi d'accordo perché anche noi in auditorium abbiamo questa linea, è una linea che privilegiamo sempre. Abbiamo tolto tanta plastica, tanta cosa, privilegiando il vetro, la ceramica, i piatti, i bicchieri e via dicendo. Stiamo cercando di ridurre sempre di più il rifiuto. Ecco, poi ecco, questo per l'ordine principale. Poi c'è una serie di altri ordini dove vengono gestiti, ogni ordine ha un suo referente, una persona che si impegna per aprire, chiudere, contattare il produttore, insomma, coordinare un po' il tutto. Faccio esempio quello del formaggio dove non viene distribuito sabato mattina ma viene distribuito a casa della persona che gestisce l'ordine. Quindi magari potrebbe essere che il formaggio gli arriva a casa il mercoledì e lui lo distribuisce, non so, magari il giovedì sera, il venerdì sera o se riesce anche sabato mattina. Quindi non tutto, diciamo, si conclude il sabato mattina ma il pesce, ad esempio, il pesce magari il referente lo ritira il martedì ma non è che si può distribuire il sabato. Certo, vabbè, certo. Perci andare in giornata a prendere, altrimenti, o la carne, ecco, cose di questo tipo. Ottimo, ottimo. Ma ci dicevi, caro Paolo, ma uno che vuole iscriversi, ma uno che vuole sapere qualcosa, ma uno che si vuole informare, come fa? Sì, allora... Darci dei contatti. Sì, abbiamo il nostro sito internet che è www.gasello.it e si può scrivere una mail a infochiocciolo.gasello.it, ecco, quindi si manda una mail, poi si viene contattati e in genere ci si dà appuntamento un sabato mattina in Piazza Pertini dove si può fisicamente vedere i prodotti e la nostra, in modo superando, insomma, come siamo organizzati, cosa facciamo e... Ecco, bisogna ribadire, ecco, due cose che ci tengo a sottolineare. Prima di tutto abbiamo parlato dei gas, gruppi acquisto solidale, ma è importante di... abbiamo detto che cosa siamo, ma è importante di bene ribadire che cosa non siamo. Allora, prima di tutto non siamo un supermercato online, anzi, siamo l'opposto praticamente, e non siamo un'associazione in cui ci si deve sentire solo clienti, nel senso che bisogna essere anche un po' partecipato. Sì, bisogna viverla, insomma. Esatto, viverla, tenerla, cioè, se non ci fossero, diciamo così, i volontari che si impegnano, si rimboccano le maniche e si danno da fare, insomma, l'associazione non andrebbe avanti. E un attimino sui punti di guadagno, allora abbiamo detto freschezza, cosa... Quanto guadagna, effettivamente, poi... Allora, diciamo, più che guadagna, quanto risparmia. Quanto risparmia, certo. Quanto risparmia un consumatore. Ecco, intanto... Forse bisogna parlare a livello di parità, di qualità e di freschezza. Esattamente, è quello che stavo dicendo. Intanto bisogna far ricordare che stiamo parlando di prodotti biologici, quali hanno già di per sé una differenza di prezzo dai prodotti convenzionali, se vogliamo, quelli di agricoltura biologica. Nel nostro caso è ovvio che noi questi confronti li facciamo settimanalmente, prima di tutto per noi stessi, per capire come andiamo. La media va da un, diciamo, risparmio del 50, addirittura in alcuni casi dal 100%. Vuol dire che se un prodotto medio da noi si paga 1 euro, nella grande distribuzione lo puoi trovare anche a 1,50 euro e in qualche caso altri prodotti a 2 euro. Questo è il tutto. Ma è bene anche dire da dove deriva questo, perché è chiaro che noi non siamo dei maghi. Che trasformiamo quello che vediamo. Il tutto deriva da quello che già dissi, ovvero abbiamo accorciato drasticamente la filiera. Perciò il prodotto passa da chi lo produce dal campo alla tavola senza intermediazione. E già lì una fetta, se ne va via, una fetta direi consistente. Il primo dato. Il secondo dato è che non ci sono scarti. Perché non ci sono scarti? Per il semplice fatto che tutti i prodotti vengono acquistati in base a quanto viene richiesto dai soci del gruppo. Certo. Il supermercato non può sapere che cosa gli servirà quel dato giorno di quella settimana. Ovviamente deve avere in casa il necessario e una scorta per l'eventuale richiesta plus. E questo genera di fatto uno spreco notevolissimo. Perché? Perché quello che poi diventa poco presentabile finisce al margine. Un saluto! Ciao a tutti, riflettete attentamente su quanto è stato detto attorno al consumo attraverso i gas. Paolo! Sì, grazie a tutti e noi ci siamo e vi aspettiamo. Grazie a tutti.